Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere, ipnosi, soluzione, l'ipnosi DCS, vera professionale con la V maiuscola. Oggi parleremo di rabbia. Rispondo ad un signore il quale mi parla di rabbia. Da quando è bambino non ce la fa più per la rabbia. Reagisce, litica anche per un non nulla in famiglia, fuori, sul lavoro. E mi chiede il perché e soprattutto la soluzione. Cosa fare per liberarsi dalla rabbia? Io gli ho risposto alle mie esperienze dirette e indirette sul campo, anche con l'ipnosi DCS, vera professionale con la V maiuscola online. Ti posso garantire che la rabbia si acquisisce perché non si nasce con la rabbia. Quando si è bambini si sta accanto a delle figure, genitoriali soprattutto, che ti trasferiscono e ti trasmettono questa rabbia. Parlo di me che quando ero un ragazzino mio padre era la persona più rabbiosa, più stressata della terra, perdeva la pazienza in un nanosecondo ed io da piccolino guardavo come i cagnolini guardano i cuccioli, guardano i loro genitori, la loro madre e il loro padre. E alla fin fine quando sono diventato adulto ero come lui, per non dire peggio. Dopodiché nel 2008 con la dottoressa Rina Brunini e con l'ipnosi vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills la mia vita è cambiata radicalmente. Mi ricordo una ragazza tempo anni fa che mi disse, si chiama Valentina, adesso sta in Germania, mi disse Dottore ma io mi ricordo quando lei saltava dalla sedia, fumava tre pacchetti di sigaretti, in un nanosecondo perdeva la pazienza per un problema X, si arrabbiava, si stressava, si innervosiva e compagnia bella. Oggi invece vedo un'altra persona, molto più calma, equilibrata, tranquilla, per cui chi dice ma dopo quando cambio c'è paura che sia una persona diversa, un po' come pensavo io un tempo, la risposta è no, sei sempre la stessa persona ma senza il freno a mano tirato della rabbia. Un'altra volta un'altra persona era arrabbiata perché il papà, anche lui, avendo a che fare con molta gente e secondo me anche lui vittima di altre vittime, aveva trasmesso questa rabbia al figlio. Dalla rabbia se ne può uscire al 101%. Io stesso ho realizzato un Audi MP3 DCS dal titolo No rabbia, un grande capolavoro che ha aiutato tante persone che addirittura non volevano fare sessioni online di più di DCS per vari motivi, che al momento comunque sono sospese per problemi di tempo e di impegni, ma che anche con un solo Audi MP3 DCS, seguendo la lettera e le istruzioni molto facili, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, tu puoi uscirtene, cancellare, sbriciolare dal tuo subcosciente, dal tuo pilota automatico, tutte quelle immagini, emozioni negative che ti hanno portato ad arrabbiarti oggi, a stressarti in un nanosecondo. Quali sono i vantaggi quando si toglie la rabbia? Beh, i vantaggi sono mille, mille, mille. Io andavo in tachicardia, la mia faccia diventava rossa, respiravo in maniera affannosa, avevo il fumo che usciva dalle orecchie, sai come nei cartoni animati? Non mi vedere così, ma all'epoca purtroppo ero veramente... perché? Perché la mia mente, il mio subconscio collegava quello che mi succedeva in quel periodo a quando ero un bambino, cioè la figura di mio padre è che per uno nulla si arrabbiava con me, con i miei fratelli e compagnia bella perché sicuramente lui quando era piccolino, vittima di altre vittime, anche a lui, i nonni, i genitori perché poi è stato pure adottato dai nonni e si comportavano in quel modo forse per l'educazione vittoriana, non lo so, però il fatto sta che non si vive di rabbia perché se tu guidi una macchina, il tuo corpo, la tua vita su una strada scoscesa piena di buchi e prima o poi la macchina si rompe, così è il tuo corpo. Le malattie nascono dallo stress, dalla rabbia, malattie anche mortali. Adesso ci sono studi scientifici che ti prego di andare anche a vedere su Lancet, Life, riviste scientifiche internazionali e comprendimi che bisogna utilizzare delle tecniche per eliminare tutte le nuvole nere dal subcosciente per stare tranquilli e vivere mille anni. Poi è logico, se tu non vuoi scaricarti l'Audium IP13S che può fare per te come no stress, molto controllo dei nervi, no rabbia, no passato negativo, ego entusiasmo, no depressione, no ansia, eccetera, eccetera, puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi, vera professionale, con la B maiuscola della tua zona, sederti e iniziare. Però fidati che non esiste tecnica migliore per entrare nel tuo subcosciente da dove nasce questa rabbia per cancellare quello che ti fa stare male, ti fa arrabbiare. Quindi non è colpa degli altri, è il tuo subconscio che reagisce alle situazioni, persone e cose in base a come è stato tarato quando eri piccolino. Fammi tutte le domande al caso, risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel guida, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo anche a me nel 2008, a centinaia e centinaia di persone nel mondo che ho aiutato personalmente online, con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola e anche con soli audio MP3 di CS altamente professionali e unici al mondo e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio, amica mia, dal dottor Claudio Saracino e alla prossima, ciao!